Sono iniziati gli interrogatori di garanzia per le 36 persone arrestate nell'ambito dell'operazione antimafia a Gota 4. I primi 10 degli arrestati sono stati ascoltati a Palermo dal GIP Massimiliano Micali alla presenza dei sostituti della DDA di Messina, Vito Di Giorgio e Angelo Cavallo. Ben 8 di loro si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'impianto accusatorio nei confronti degli esponenti dei clan che, stando agli inquirenti, stavano tentando di ricostruire le fila della criminalità organizzata tra Messina e Barcellona dopo le ultime operazioni antimafia messe a segno, si è avvalso dell'importante contributo dei commercianti e imprenditori dell'Interland barcellonese che hanno deciso con le proprie denunce di ribellarsi al fenomeno estorsivo. Una parte fondamentale nell'inchiesta è data però anche dalle dichiarazioni dell'ultimo dei collaboratori di giustizia, Salvatore Campisi, il cosiddetto pentito ragazzino, figlio dell'ex capo mafia di Termevigliatore che a quanto pare, dopo le operazioni delle forze dell'ordine che avevano decapitato la cupola in provincia, era riuscito ad appena 28 anni ad assurgere a capo della famiglia di Termevigliatore. Tra le pagine del provvedimento cautelare firmate dal GIP Micali viene delineata una profonda condizione di omertà imposta dai clan nel territorio di riferimento di cui si stava tentando di ricostruire la leadership attraverso l'esecuzione di varie condotte criminali. Sullo sfondo dell'operazione Gota 4 si stagliano anche alcuni degli episodi più inquietanti degli ultimi anni. L'omicidio di Giovanni Perdichizzi freddato il primo gennaio all'interno del Bargioli di Sant'Antonino, il ritrovamento dell'arsenale all'interno di un casotto di Contrada Acquaficara la notte del 17 gennaio e la scoperta di canali privilegiati utilizzati dai clan per comunicare con gli esponenti di spicco finiti in carcere. Tutte tessere di un unico grande puzzle che gli inquirenti con grande pazienza e meticolosità hanno messo insieme fino a formare il quadro completo del quarto atto del filone Gota. Nei prossimi giorni intanto proseguiranno gli interrogatori degli arrestati detenuti nelle altre carceri tra Messina, Siracusa, Agrigento e Caltanissetta.